quello che sei riuscito a fare qua dentro è stato sempre lineare corretto sei arrivato al momento giusto nel punto giusto a terza volta un po troppo esagerato un po troppo permaloso però cosa stai pensando a niente ti guardavo andiamo via andiamo a casa insieme quasi quasi grazie grazie